E' terminato l'incontro, è terminato l'incontro, vittoria della Virtus Castelfrentano. Andiamo a salutare a centro campo, a salutare. Oh recuperate le borracce, che costa eh? Ecco è terminato l'incontro. Si salutano, cacciatore aspetta che dopo si fa l'ora. Ecco, bravo Matteo, bravo ragazzi. Bravo ragazzi. Fermi qua, andate a centro campo. Andate. Adesso i ragazzi vanno a ricevere il meritato applauso dal pubblico. Forza! Forza! Vittoria per la Virtus Castelfrentano. Io dico otto a uno, ma mi dicono sette a uno, controlliamo dopo. Bravo mister, complimenti. Oh recupera la bandierina pure l'altra dall'avversario, appunto che è nuova, questo è personale la bandierina. Grazie. 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 Grazie.